Cari amici, silenzio assordante da parte delle altissime cariche dello Stato, sia sui Marò, sia sulle forze di polizia, sia sui carabinieri che non vivono, certo mi riferisco espressamente a quelli del rione Traiano di Napoli, che non vivono o lavorano nei felpatissimi salotti e nei corridoi, per esempio, tanto per farne uno. La politica di cui fanno parte alcuni di questi che per oltre mezzo secolo non hanno saputo, non hanno voluto interessarsi appieno, come invece hanno fatto quando certe cose toccavano le loro auguste terga. Eh sì, il problema più stupido per le loro auguste terga diventa un motivo di monitare, di richiamare tutti al maggior senso dello Stato, certo, certo. E adesso dove sono andati a monitare? Perché tutti si arrabbiavano perché la privacy era violata? E adesso dove stanno a farsi violare la privacy? E mi riferisco a tutte le esternazioni su giustizia, senso dello Stato e ben altro. C'è un'unica sola parola che va bene per questo, una sola. Vergogna, vergogna, vergogna.